Ciao a tutti ragazzi! Io mi chiamo Leonardo e benvenuti su Leo Toys! Oggi costruiamo una città! Oggi ho preso in edicola My Little Town! In ogni uscita trovate un pezzettino di città dei My Little Town! Se riuscite a collezionarli tutti, monterete tutta questa città! Guardate che bella! Io ho preso la prima uscita e la seconda uscita! Allora, nella prima uscita c'è Bob e il suo quad! Nella seconda uscita c'è Dan e il piano terra della stazione di polizia! Trovate questa rivista con un mini fumetto! E al finale trovate le istruzioni di montaggio! Sono proprio curioso di vedere come sono fatti! Voi lo sapete che sono un appassionato di Lego! Ragazzi, apriamo! Pezzi, 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 pezzi dappertutto! Pezzi che vuolano! Pezzi, 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 pezzi! Pezzi, 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 pezzi Bezzi, pezzi, 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 pezzi e pezzi Bezzi, pezzi, 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 pezzi pezzi Obbob si è pronto a salire a bordo della tua quad? risponde perchè un lego ecco abbiamo montato la nostra prima uscita adesso montiamo Dan e il piano terra della stazione di polizia ecco ecco questi sono i miei saluti per voi ehi ridammi il mio quad non so come si ferma sto coso aiutaaaaaaaaaa polizia polizia chiamate la polizia Senta Wii!!! Aiuto!!! ragazzi spero tanto che questo gioco e questo video vi siano piaciuti mettete un mi piace se vi è piaciuto il video e questi giochi che sono carinissimi iscrivetevi al mio canale e ciao ciao da Leonardo e My Little Town ciao ciao